Noi quello che puntiamo molto su questa festa è la genuinità dei nostri prodotti, le nostre mitiche tagliate e fatte a mano, i nostri ragù fatti sul posto al momento dove la gente arriva e sente proprio il sapore dei sughi che bollono, le nostre grigliate proprio fatte al momento e poi l'occo in porchetta e il coniglio in porchetta condito da noi e cotto sui forni a legna proprio come usavo una volta. Quante tagliatelle, qualche uova di tagliatelle pensate quest'anno di preparare? Come vi state preparando? Le tagliatelle, le uova sono impossibili di contare, comunque sono migliaia e migliaia di uova, puntiamo molto sui quintali di tagliatelle, adesso è difficile dire ma la gente è tanta quindi anche le tagliatelle sono tante. Giovedì ci sarà la sfilata di moda, poi successivamente ci sarà un complesso di Appleson che allieta la serata per chi è amante del ballo, poi il venerdì sera c'è una bella gara di briscola, 128 coppie con ricchi premi, sabato ci sarà una nuova orchestra da Nuova Romagna Folk, domenica ci sarà l'orchestra Io Salito che allegra la serata.